Anche per questo luglio 2022 è uscito il numero del Baros, il giornale di Piazzano, stampato in 150 copie e distribuito nella bottega del paese, in tutte le formacie, purché siano a Piazzano quindi in una, al Gelso a Montecanino, a San Gabriele non mi ricordo dove e forse anche in un'altra frazione. È gratuito, però se ci lasciate un paio d'euro per finanziare, per pagare la stampa del numero successivo ci fate anche un favore. Vediamo quindi il numero di questi quattro mesi, perché è tri quadrimestrale. Questa è la prima pagina, si parla del progetto di trasformare la Valluretta in un borgo del libro. Il sommario, il resoconto dell'incontro letterario con Sabrina De Canio, che è una bravissima poeta, il resoconto dell'incontro con il poeta Nicola Iori, fatto il 28 maggio. L'intervista che ho fatto io, il mio primo articolino, in cui ho intervistato Patrizia, la signora che ha lavorato in posta per 35 anni qua a Piazzano, la signora gentilissima. Poi un resoconto della marcia di aprile, un articolo sulla raccolta di rifiuti lasciati per strada a Piazzano, la premiazione di Viterranei della Croce Rossa, gli aggiornamenti del Comune con un po' di lavori, il faccimento di strada, nuovo pannello segnaletico, riempimento buche. Perché hanno riasfaltato la strada di Pomaro, l'ho vista, è bellissima, ho fatto fatica a resistere, a prendere la moto e a fare la manetta perché l'asfalto era perfetto, credo che fosse anche quello drenante. Gli avvisi per la crisi idrica, per cui è fondamentale non lavar la macchina, non annaffiare i giardini, non sprecare acqua, non riperi pescine, se no si viene divorati dai caprioli con il consenso del Comune. L'angolo dei lutti delle nascite, racconto di una gita in Puglia. L'angolo dei bambini per i più piccoli, con un raccontino scritto da Roberta Grazzani, questa rubrica è curata da Luisa Uboldi. Questo è un articolo di due signori che vivono in una realtà sconosciuta appena fuori Piazzano e hanno un ettaro di rose, bellissime apparentemente. Purtroppo abbiamo potuto mettere le foto un po' piccoline perché insomma non è gardenia come giornale, quindi gli spazi sono un po' quello che sono, però è un articolo interessante. Sempre per l'angolo dei fiori di Francesca Barbera, un piccolo accenno al giglio. Quanto fiore, tre articoli sulla musica, uno sulle musiche, canti e danze tradizionali piacentine. Qui un piccolo annuncio che parla delle visite guidate alla piaglia di Monte Canino. Questo invece è stato un incontro cui si sono ritrovati nella vecchia scuola di San Gabriele, tutta una serie di persone che l'hanno frequentata, pare che sia stato molto bello. Sono le foto, l'articolo che ne parla. Un articolo di Daniela che parla del castello di Monte Canino, o quel poco che ne resta. Sempre belli gli articoli di Daniela. Le pagine di poesia con Franco Astelli, una poesia dedicata a Don Giuseppe. Un racconto di Artemio Magistrali, la restanza. Un piccolo articolo dell'Associazione Alpini di Piazzano con il programma delle attività che si terranno il 16, 17, 18 settembre. Poi il calendario degli prossimi 3-4 mesi. E poi in ultima pagina le informazioni utili. Ecco, questo è l'ultimo numero del Barossa.